Il 15 dicembre a Missilmeri una grande festa organizzata per tutti gli appassionati di automobilismo, il Missilmeri Racing Day. Esposizione di auto e moto da corsa, autotuning, kart e automodellismo. Raduno di auto e moto storiche con passeggiata per le vie di Missilmeri. Simulatore di rally per il divertimento di grandi e ticini. Premiazione sociale e dei vincitori del Challenge Gingana 2013. Video degli eventi organizzati nel 2013 dalla Missilmeri Racing. Tombolata con premi. Gadget per tutti e palloncini per i piccoli appassionati. Mostra fotografica sui 20 anni di slalom a Missilmeri. Stand espositivi. Degustazione di prodotti tipici. Presentazione del calendario eventi 2014. Presentazione della scuderia Piloti Xai. E la presentazione del ventesimo slalom città di Missilmeri con la partecipazione speciale di Ciro Barbaccia e del pluricampione della targa Florio Totò Riolo. Appuntamento per tutti gli appassionati del mondo dei motori. Allora il 15 dicembre 2013 dalle ore 8.30 alle ore 18 presso l'area artigianale di Missilmeri. Ingresso libero. Per maggiori informazioni www.missilmeri racing.it